L'allarme rosso negli ospedali pugliesi e salentini resta alto. La situazione, già assai difficile durante gli altri mesi dell'anno, si è aggravato ulteriormente in questo periodo nel quale il nostro territorio viene preso d'assalto da migliaia di turisti. Il problema numero uno è sempre lo stesso, la grave carenza del personale medico e paramedico. L'unica buona nuova dei giorni scorsi è il via libera al piano triennale del fabbisogno di personale approvato dal Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia. Si tratta di uno strumento fondamentale e propedeutico per dare il via libera alle assunzioni nella sanità pugliese. In rampa di lancio ci sono 478 lavoratori già in possesso di tutti i requisiti previsti per legge per ottenere la stabilizzazione del comparto così come previsto dalla legge Madia e dalla legge finanziaria. Un provvedimento necessario in buona sostanza per procedere alla copertura dei posti vacanti e per trasformare contratti da tempo determinato in indeterminato nei casi in cui è previsto. Ovviamente con un occhio alle esigenze di bilancio. L'obiettivo infatti è quello di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente però con le disponibilità finanziarie di bilancio e con i vincoli normativi alle assunzioni di personale e di finanza pubblica. A fronte di un fabbisogno pari a 9.377 unità i medici in servizio sono 7.395. All'appelo dunque nella nostra regione mancano 982 medici. La caccia è partita da tempo ma la regione Puglia come noto ha posto dei paletti ben precisi dopo lo sforamento di 450 milioni di euro certificato nel 2022. Tutti i piani assunzionali 2023-2024 dovranno ottenere il via libera dall'esecutivo. Uno stop di fatto ai direttori generali delle otto asle pugliesi per evitare di allargare le crepe economico-finanziari dell'ENT. Il nodo assunzioni e non solo sarà al centro della prima riunione dopo le festività agostane in programma il prossimo 7 settembre a Bari e alla quale prenderanno parte i vertici della sanità pugliese e i rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali.